Amici di Trebi Meteo ben ritrovati dall'appuntamento previsionale. Vediamo il tempo che farà nella giornata di lunedì partendo dall'Europa dove avremo ancora una certa instabilità sui settori orientali con clima piuttosto freddo e delle piogge sparse mentre dall'Atlantico rimonta l'alta pressione riportando il bel tempo e temperature decisamente più gradevoli mentre farà ancora piuttosto freddo con massima di sotto dei 10 gradi sull'Europa orientale. In Italia anche qui avremo la rimonta dell'alta pressione dunque tempo soleggiato e gradevole sui settori settentrionali su gran parte del centro mentre un po' più di variabilità insisterà al sud sui settori tirrenici con il rischio di qualche occasionale piovasco sul basso Lazio e sulle zone di Calabria e Campania. Per quanto riguarda le temperature le minime saranno pressoché stazionali ancora piuttosto fredde al mattino soprattutto sulle zone interne del nord anche inferiore ai 5 gradi. Le massime invece saranno in aumento con valori decisamente gradevoli al nord anche superiore ai 20-22 gradi mentre saranno intorno ai 18-19 gradi sul resto delle regioni. E per quanto riguarda le previsioni al nord avremo dunque una bella giornata di sole con davvero poche nuvole in transito qualcosa soltanto lungo l'arco alpino. Al centro anche qui preverrà il sole sui settori adriatici e su gran parte della Toscana maggiore variabilità insisterà invece sul Lazio con il rischio nel pomeriggio di qualche occasionale acquazione sui settori interni appenninici. E infine al sud anche qui avremo una giornata abbastanza buona ma con ancora un po' di variabilità soprattutto sui settori tirrenici con il rischio di qualche piovasco tra Campania, Calabria e ad area dello stretto mentre altrove preverrà il sole in Sardegna qualche nuvola ma tempo asciutto.